Riunione questa mattina all'Aquila in regione per la commissione di vigilanza su cui tavole è arrivato il caso mare inquinato a Pescara, proprio nel giorno in cui Capitaneria di Porta e Guardia Forestale hanno eseguito sequestri di documentazione all'interno degli uffici di Arte e Comune di Pescara. Al di là delle responsabilità penali che saranno accertate dalla magistratura pescarese a seguito anche dell'esposto presentato da Fratelli d'Italia, la partita si sta giocando sulle responsabilità politiche in merito a quanto accaduto lo scorso 28 luglio quando sono finiti nel fiume Pescara e poi nel mare 25.000 metri cubi di liquami in 19 ore a seguito della rottura della condotta fognare approvisoria di via Raiale che sostituisce quella crollata il 6 aprile per lo smottamento di un tratto dell'asse attrezzato Chieti Pescara. Sul banco degli imputati c'è il sindaco di Pescara Marco Alessandrini per quella ordinanza di non bagneabilità del mare non applicata che vietava di fare il bagno nel tratto di mare antistante via Balilla ma c'è anche la regione Abruzzo infatti secondo le opposizioni Movimento 5 Stelle e Forza Italia anche la regione ha responsabilità perché ha competenza nell'ambito delle azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento che non consentono la bagneabilità delle acque così come è scritto nel decreto 116 del 30 maggio 2008. Cosa chiedete a Mazzocca? A Mazzocca se la regione in racconoscenza dell'ordinanza perché non ha vigilato perché prima del 28 non si è fatto una conferenza di servizi per fare un intervento concreto sulla rete fognaria perché si crede che come regione eravamo in grado di poterlo fare.